La settima conferenza del Topics, Big Data in a Living Web. Ho in comune con voi, credo soltanto, una grande passione per l'innovazione. Mi appassiona l'argomento dei dati, ne so pochissimo. Oggi il mio posto sarebbe in mezzo a voi a sentire gli speaker. Quando ho visto il programma della conferenza ho detto perfetto, è la classica conferenza dove vado, prendo appunti, imparo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.